ciao benvenuti alla settima puntata della quarta stagione di business coaching talk abbiamo cambiato la pianta è vera non è finta l'orchidea vera che ho comprato stamattina perché mi piaceva vittre un po di quello qua indietro siamo in compagnia come sempre di teresina di lauro oggi parliamo di ciao antonio oggi parliamo di un argomento che magari può sembrare anche banale però gli imprenditori ce l'hanno chiesto perché bisogna focalizzarsi sul guadagno e non sul fatturato è una domanda che piccolo imprenditore le prime armi per lui fatica distingue la differenza tra fatturato e guadagno infatti spiega un po qual è la differenza tra fatturato e guadagno e perché bisogna concentrarsi sul guadagno allora lo spiega un bene allora un'azienda fatturato è considerato quello che l'azienda teoricamente ha incassato e ha fatturato ci ha emesso le fatture sono praticamente i ricavi cioè quello che l'azienda ha guadagnato al netto dell'iva quindi se tu hai guadagnato 1830 euro per esempio una fattura di 1830 euro l'ordo dell'iva il netto è 1500 euro ovvero 1500 più iva e fa 1830 corretto più o meno più o meno quindi intanto è fatturato e i ricavi netto iva quindi dove ho tolto l'iva perché tolgo l'iva perché l'iva in realtà è una partita di giro che l'azienda non pesa perché l'azienda lo incassa lo detrae dalle lo detrae lo va a scaricare lo va a dedurre diciamo dal dai costi in quanto se io delle uscite di iva le uscite gli ingressi fanno pari spese uguali guadagni che sarebbe negativissimo io vado a compensare l'iva viceversa se io non la compenso e che sarebbe la cosa migliore perché si dice che stai guadagnando dei soldi si presume che stai assicurando i soldi tu quelli che la la vai a versare lo stato quindi non sono soldi che tu incassi per te sono soldi che incassi a posto dello stato il cui peso viene versato sul cittadino non sull'impresa sul cittadino che paga il bene iva inclusa senza poterla detrarre quindi il tuo fatturato è solo i ricavi netto iva quindi quello che tu hai fatturato realmente se tu hai fatturato 18 mila e 300 euro il tuo ricavi fatto oppure il fatturato netto è 15 mila euro tutto chiaro la seconda domanda che devi porre quanto è il mio guadagno su questi 15 mila euro se ho fatturato in un mese 15 mila euro quanto sono andato a guadagnare per fare questo calcolo devi togliere fondamentalmente le spese le prime spese che vai a togliere sono le spese delle spese variabili ora le spese variabili non sono le spese che variano nel tempo che non mi potrebbe dire anche la corrente elettrica l'energia varia e negli ultimi anni abbiamo sofferto di questa cosa soprattutto le aziende energie avevano visto quanto può aumentare la bolletta dell'enel non la bolletta dell'energia però come costi variabili intendiamo tutti quei costi strettamente correlati alla produzione e alla vendita di un bene facciamo un esempio io vendo questo telefono di questo oggetto lo produco produco 100 di questi oggetti ogni oggetto mi costa 100 euro quindi se ne faccio 100 spendo 10 mila euro quel costo è il costo del venduto cioè il costo che quando mi è costato produrre questo oggetto il primo costo che va analizzato è proprio il costo del venduto quindi quanto impatta questo costo sul mio fatturato quindi dicevo su 15 mila euro che ho fatturato 1.500 lo spesi cioè il 10 per cento lo spesi di costo del venduto quindi il costo del venduto è il costo legato alla produzione dell'oggetto poi c'è il costo di vendita per esempio io potrei pagare degli agenti di commercio una percentuale sulle vendite mettiamo il 10 per cento ancora per semplicità quindi io sono andato a pagare ho fatto 15 mila euro di fatturato ho pagato 1.500 euro gli oggetti che ho venduto e poi ho pagato ai venditori 1.500 euro di commissioni quindi sono rimasti 15 mila euro 3.000 euro poi potreste vedere altre spese variabili di non so che natura però mettiamo il caso che tu paghi anche un tuo segnatore oppure un distributore una percentuale sulla distribuzione del prodotto il fatturato l'hai fatto tu ma devi riconoscere il tuo distributore che porta la merce nei negozi piuttosto che nelle case delle emersioni devi lasciare una percentuale diciamo anche qua del 5 per cento giusto per fare un numero sensato il 5 per cento di 15 mila euro sono 750 euro ecco che tu hai un costo costi variabili uguale a 1.500 più 1.500 ovvero 10 più 10 più 5 il 25 per cento ovvero 3.750 euro nei conti così a memoria che mi sono fatto io la differenza tra il tuo fatturato netto e i costi variabili quelli di cui ho parlato si chiama margine di contribuzione oppure primo margine ed è un primo guadagno dell'azienda ma non è detto che il tuo guadagno perché tu a questo punto dovrai togliere dalle d'acqua dal tuo fatturato anche tutte le spese fisse ovvero stipendi affitti d'oreggi a questo punto l'energia elettrica le utenze il tuo stipendio se tu sei un dipendente della tua azienda o se sei un amministratore solamente i soldi che ti prendi come amministratore quindi il tuo stipendio di amministratore eventuali rimborso di spesa eventuali auto che tu hai aziendali se ce l'hai e ti porti in detrazione una parte di questi del valore di queste auto eccetera eccetera quelli sono costi fissi perché si chiamano costi fissi si chiamano costi fissi perché sono o meglio più precisamente tecnicamente si chiamerebbero costi di periodo perché costi di periodo perché sono costi che tu dovrai sostenere in ogni caso nel periodo dell'anno contabile dell'anno d'esercizio quindi nel 2024 si presume che tu le persone che hai assunto le tiene assunte questo non è tutto vero perché tu durante l'anno puoi licenziare o qualcuno ti può abbandonare lo devi lasciare però si presume che se tu hai tre impiegati quattro impiegati per andare avanti e per produrre della ricchezza e delle produrre hai bisogno di quei quattro impiegati quindi se uno va avanti va fuori un altro dovresti inserire dentro ecco quelli sono i costi fissi mettiamo che tu hai costi fissi per 7.000 euro il tuo guadagno prima delle tasse gli ammortamenti eccetera eccetera è la differenza tra il fatturato meno i 3.750 dei costi variabili di cui abbiamo parlato che pesano il 25 per cento che quindi danno margine di contribuzione dei 15.000 meno 3.750 fa 11.000 diciamo 11.000 giusto per fare un numero tondo ti rimangono 11.000 meno 7.000 euro di spese che tu hai tra stipendi affitti di locazione dell'ufficio macchine e quant'altro ti rimangono abbiamo detto 7.000 dita di spese hai guadagnato 11.000 meno 7.000 4.000 euro questo è tuo guadagno no che guadagni è l'azienda che tu non sei la tua azienda tu sei una persona che lavora all'interno dell'azienda e diciamo che in questi 7.000 di spese sono anche i tuoi stipendi ok rimangono questi 4.000 euro questi 4.000 euro sono si chiamano e bt da ovvero il guadagno e per sapere earn vista per b force prima di t tasse e bt e bt da prima i quindi earn e di earn guadagno bd before ovvero prima degli interessi i sapere interest quindi interessi interessi che tu hai su mutui affitti noleggi eccetera eccetera interessi bancari tax le tasse t di tax poi e bt da d che sono i depreciamenti i depreciamenti sono il valore di merce che tu hai comprato e messo in magazzino che si è depreciato facciamo un esempio tu produci per produrre questo e bisogna utilizzare il rame compri il rame lo metti in deposito il rame si è svalutato costa meno quel depreciamento tu lo puoi mettere il commercialista non tu lo mette nelle perdite per depreciamenti quindi va a togliere dalle tasse dalle bt da va a togliere i soldi del valore della merce che è calata quindi il depreciamento può essere un costo detraibile tutto sommato le tasse e gli ammortamenti e ammortamenti che cosa sono io compro questo computer l'ho speso bot 2000 euro però non lo posso detrarre dalle tasse nell'anno in cui l'ho comprato lo posso detrarre le tasse quota parte un quinto questa mi sembra un quarto quest'anno un quarto l'anno prossimo e l'altra metà negli altri successivi due anni perché la legge è questa posso detrarre dalle tasse soltanto il 25 per cento anno del computer ho detto computer per dire una consiglia se altro bene se ho comprato una macchina per produrre qualcosa quella macchina posso portare un ammortamento o secondo delle leggi anche dei vantaggi fiscali per ammortamento quindi ammortizzo molto di più del valore della macchina per x anni questo mi consente di andare a pagare le tasse qui dopo gli ammortamenti una volta che ho tolto gli ammortamenti di una cosa che ho comprato l'anno scorso e di cui vado a detrarre dalle tasse quella quota rimanente pago le tasse su il guadagno meno l'ammortamento per intenderci ora su cosa dovrebbe stare attento l'imprenditore l'imprenditore dovrebbe stare attento almeno al primo parametro l'ebtd ovviamente deve conoscere il suo margine di contribuzione deve conoscere i costi fissi deve conoscere il suo ebtd ovvero il margine operativo lordo italiano in molla che ti consente di avere una misura di quanto le tue performance aziendali stanno influenzando la capacità di creare ricchezza dell'azienda perché l'ebitda è veramente l'indice di capacità di creare ricchezza dell'impresa più è anche questo ebinda meglio azienda produce ricchezza ovviamente infatti tante che quando vedete che vediamo le aziende o andiamo a fare valutazioni d'azienda per venderle i calcoli del valore dell'azienda vengono fatti direttamente in considerazione l'ebitda oppure quando andiamo a finanziare l'azienda noi facciamo aiutiamo varie aziende o stiamo aiutando varie aziende a farsi finanziare i fondi o i business angels adesso sono chiamati business angels cioè i finanziatori guardano l'ebitda sotto l'ebitda non guardano quello che succede interessa poco quindi per dire di stare attento a meno l'ebitda ma devi sapere che il guadagno dell'azienda in realtà verrà successivamente una volta detratto dal guadagno e ammortamenti dei prezzamenti le tasse interessi e le tasse quello sarà l'earn finale ora se tu hai il 2 per cento di earn oppure 2 per cento prima delle tasse di ebidda evidentemente c'è un problema grosso devi gestire un po meglio le finanziere gesti un po meglio l'azienda cioè la macchina che creato una macchina inefficiente se tu c'hai il 20 25 di 30 per cento di ebidda sei un'azienda molto florida quindi sta creato tantissima ricchezza questo è importante saperlo perché quello è l'indice su cui tu puoi misurare la performance della tua azienda e quello l'indice che ti consente poi di prendersi i dividendi perché tu i dividendi per riprendi dal fatturato riprenditi dall'ebitda sono stato chiaro sì ma spiega meglio perché tutto ciò che viene al di sotto dell'ebitda non è interessante tra virgolette ma non è interessante no non è che non è interessante però è una cosa che tu puoi monitorare facilmente perché dipende da gli ammortamenti ammortamenti dipendono dalla legge puoi influenzare gli ammortamenti no perché per legge quelli sui ammortamenti che puoi portare detrazione puoi intervenire direttamente sugli interessi bancari si può andare a ridiscutere i voti però non è che tu hai un approccio diretto sugli interessi mentre sul fatturato sulle spese variabili sulle spese fisse tu puoi fare qualcosa sugli interessi bancari sugli ammortamenti deprezzamenti tu sei completamente effetto della situazione quello che succede mercato che si muove quindi facciamo se il rame è calato del 30 per cento il rame che avevi comprato verso il volo del 30 per cento tu cosa puoi fare niente puoi soltanto portare nelle perdite quel depreciamento quindi un imprenditore cosa deve fare per aumentare il suo guadagno e deve gestire bene i costi fissi e costi variabili questo è fondamentale ora questo è un problema che mi dà nel centro che squadro ho detto una cosa gestire bene costi fissi e costi variabili e fatturato se bene fatturato costi fissi e costi variabili c'è presente in italia si vanno spesso del rapporto debiti in italia nel mondo si parla l'importanza del rapporto debito pillo certo che ovviamente ne so più conta quanto debiti abbiamo perché il debito è fatto con qualcuno che schiaccia un bottone prodigio soldi non è più debito verso le persone il debito verso le banche che come si fa a valutare se un paese sano si calcola il rapporto debito pilla infatti i governi sono tutti quanti attenti a recuperare questo debito nessuno pensa aumentare il pilla e allora la stessa cosa in azienda la stessa cosa in azienda come fai a migliorare il guadagno beh paramente se fatturi di più facciamo il conto di conto che ho fatto se tu c'è 15 mila euro di fatturato mensile e c'è 7 mila euro di spese fisse tra i dipendenti in varie cose e quelle spese variabili possono il 25 per cento quelle spese variabili tutte le porti anche se fatturi 150 mila al mese ma se i costi fissi non aumentano sensibilmente aumentare il fatturato tu c'è molto più margine quindi facciamo un esempio se io produco forse qua ci dobbiamo aiutare anche con un po di grafica perché poi verrà senso anche essere dato un po da grafica c'è un esempio io appunto 15 mila euro di cavi al mese di cui abbiamo detto 4 mila di spese variabili quelli sui costi variabili 25 30 per cento in questo caso poco più 35 30 per cento abbiamo 4 mila di spese variabili rimangono 10 mila euro ma io ho 7 mila di costi fissi ho guadagnato 4 mila euro corretto 7 più 4 per raggi corretto ho guadagnato prima delle tasse ho fatto di mollo 4 mila euro ora immaginiamo di portare l'azienda da 15 mila a 30 mila 30 mila il 25 30 per cento e 30 mila sono 9 mila euro di costi variabili mi rimane di margine di contribuzione 30 mila meno 9 quanto fa 21 mila tolgo 7 mila di spese fisse cosa mi rimane come bid da 21 mila meno 7 mila mi rimangono un sacco di soldi mi rimangono 14 mila euro quindi nella prima nel primo mese ho fatto 15 mila euro guadagno 4 mila euro invece se fatturo 30 mila euro guadagno quando ho detto 4 mila euro sono molti più soldi sono 10 mila in più perché perché i costi fissi sono rimasti inalterati o anche se aumentano un po non aumentano in maniera progressiva come il fatturato quindi in primo modo per gestire bene guadagni e aumentare il fatturato che è la cosa che funziona sempre più di tutte più fatturo più vedo più produco più guadagno se ho un regime di costi fissi costi variabili sensato ovviamente se ho tutti i costi variabili i costi aumenteranno con i costi con il fatturato ma se ho un buona distribuzione tra costi fissi costi variabili ovviamente guadagnerò di più e se la seconda il secondo sei grosso quando questa casa se quando questo palazzo quando questo quartiere quando questa città il secondo 6s organizzato team di lavoro organizzato i processi aziendali in modo tanto efficiente che con poche persone riesco a fare tanta attività ecco che è importante per un imprenditore creare processi automatizzarli molto spesso si parla del crm perché i software sono importanti i software no software sono importanti la misura in cui tu stai facendo le cose sai cosa stai facendo e metti software che ti consente invece di velocizzare un processo una cosa dove prima avevi bisogno di una risorsa umana e facevi con una persona che faceva solo quel processo se quella cosa lì si fa struccando bruttone cavolo quella persona può fare altro quindi io ho efficientato l'azienda non ho bisogno di impiegare due impiegate le tengo una con l'impiegata lì mi gestisce quel processo più un altro però ecco che i software l'automizzazione la standardizzazione dei processi la creazione di procedure sono tutte cose che servono a rendere efficiento il team e a mantenere i costi fissi più risicati possibili vedo aziende che alla prima appena vedono dei soldi e assumo altro personale perché così il team si allarga mi piace meno meno di piacciono i soldi sul conto l'imprenditore deve stare attento a generare i soldi sul conto pagarci le tasse poi staccarsi i dividendi oppure prendersi gli emolumenti durante l'anno conforme cose di cui oggi mi sa che quando scudiamo ma ci sono degli errori che gli imprenditori fanno quando si concentrano esclusivamente sul fatturato si non guardano le spese quindi alla fine dell'anno hanno guadagnato soldi questa è la principale spingo tanto il fatturato quindi spendo qualsiasi cosa che mi ricordo un contenditore amico mio dall'atto di monza un brianzolo che mi disse ah sto facendo tantissimo marketing che ho fatto il corso di sto fatto tantissimi corsi di marketing sto facendo un sacco di marketing sto spendendo il marketing i clienti arrivano vorrei vedere tutto quello che spendi è normale che gli clienti arrivano però e quindi il fatturato aumentava non si rendeva conto che la cosa giusta dal punto di vista manager non è spendere tutto tutto di più per aumentare il fatturato ma naturalmente la cosa giusta da fare è spendere il meno possibile per ottenere il massimo risultato fattibile non spendere il più possibile quello non è in corretta gestione quindi io devo trovare come imprenditore devo trovare l'equilibrio tra il budget di spesa e il raggiungimento del fatturato faccio un esempio bar e capirci se lo spendo 3 milano a mese di marketing e trovo sei clienti al mese se ne spendo 4 le trovo 8 di clienti non ne trovo 7 bene se ne spendo 5 e devo sempre 7 se ne spendo 6 sempre 7 ritorniamo a 3 dove il rapporto era ma minima spesa massimo risultato anche con 2 mila in più io ho trovato un cliente in più non ha senso in che modo la focalizzazione sul guadagno può influenza può influenzare le decisioni strategiche di un'azienda hai tantissimi modi nel senso che tu dovresti pensare a quello dovresti pensare alle bidda dell'azienda quindi le decisioni strategiche ma le decisioni strategiche che fare le fai pensando a quello poi dipende da tante cose perché per esempio se sei perché se sei una multinazionale il tuo obiettivo non è fare i bidda il tuo obiettivo è ovviamente fare i quote di mercato guarda amazon amazon non fa approfittino c'è un'intervista divertentissima in america non mi ricordo come diceva quello show c'è un giornalista americano intervista jeff bezones jeff ogni anno tu dici che la tua azienda si sta spandendo sta andando alla grande però ogni anno fate perdere su perdite voi perdete soldi e dite che stanno andando alla grandi che succede lui se la ride lo dice sembra una nuova matematica no ogni anno perdiamo soldi e ogni anno però stiamo andando alla grandissima certo perché il loro obiettivo non è la marginalità l'obiettivo dell'espansione e occupare la posizione dominante sul mercato e occuparsi della logistica mondiale io sono convinto che amazon il sottostante di amazon non è la vendita dei prodotti e commerce sottostante di amazon la gestione della logistica a livello mondiale quello il vero business quindi nella cosa di cui si occupa amazon se non avrebbe così tante serie logistica e quindi tu vedi che amazon è un'azienda che per anni non ha fatto profitti anzi andata in perdita perché l'obiettivo dichiarato agli investitori era il raggiungimento di una cavillarità della logistica a livello internazionale importante e quello giustifica le perdite anzi o sono disponibili a mettere altri soldi e il valore delle azioni si apprezza sempre di più quindi lì la dinamica non è il guadagno la dinamica è la guadagno di posizioni di mercato di cose di mercato o della posizione dominante del mercato no ma nella piccola impresa quindi nel nostro nostro territorio la piccola e media impresa la micro la piccola e media impresa le bidda guida tutte le scelte strategiche tu quando devi sai che devi fare una certa marginalità per sostenere la vita dell'azienda devi fare delle scelte di investimento e di assunzione tenendo considerazione le bidda poi è pur vero che tu a volte devi affrontare delle dinamiche di mercato e fare degli investimenti e quindi sei anche disponibile a dare in pari o a dare in perdito a dare o guadagnare meno perché vuoi affrontare un determinato mercato e fare investimento a medio termine e questo ti porterà e ma che è consapevole guadagnare meno quest'anno ho dovuto affrontare una serie germania quindi ho investito in quella sede x è questa cosa ha fatto guadagnare meno bene ben venga fai delle scelte con le scelte consapevoli quindi tu avere la marcia avere la consapevolezza di quello che stai guadagnando ti consente di mettere decisioni sensate su quello che stai facendo quindi torniamo sempre lì avere sotto controllo i propri numeri guidare con il cruscotto dove tu vedi quanta benzina c'è a quanto stai andando veloce se l'olio è scaldato bene se le bombe sono impressione è il cruscotto che ti aiuta a guidare sono guidi sennò vai per guidi però poi finisce a benzina se buca una guomba se brucia la testa del motore perché non era data finito cioè queste sono cose devi controllare ma ai nostri sempre piccoli medi e micro imprenditori però abbiamo anche grandi imprese delle possibili pesa 60 milioni pesa 30 milioni a 20 milioni da 10 milioni però abbiamo anche piccolo imprenditore con la start up che fa 100 mila euro abbiamo il caso no dell'azienda l'artigiano abbiamo l'artigiano che faceva le piastrelle che oggi c'è un'impresa che funziona anche bene ai dipendenti della mangiare delle famiglie abbiamo il caso delle piccole imprese che fatturava 120 mila euro adesso hanno chiuso un milione e mezzo adesso sono stati finanziati hanno accolto fondi abbiamo tutto e quindi dobbiamo andare un po su tutti consapevoli che l'imprenditore grande queste cose quale sa infatti era il piccolo imprenditore piccolo imprenditore no quindi rispondiamo a questa domanda infatti era un po perché abbiamo a cuore soprattutto i piccoli e medi ma con l'obiettivo di farli direttare con questa cosa bella quando ne prendiamo imprese da 100 200 mila euro le facciamo arrivare a fare 2 3 4 milioni così come è stato bello prendere l'azienda da 40 milioni oggi fra le fa 70 ovviamente per dinamiche diverse dal fa dalla dalle vendita diverse dalla da commerciale dinamiche di acquisto di altre società oggi ha otto la 70 e 80 sono crescite importanti ma a noi piace quando l'azienda cresce spande ottieni risultati c'è una corretta governance i numeri contano e le persone contano più dei numeri questo è bello come diciamo facciamo prosperare andiamo far prosperare riteniamo che le aziende prosperi quindi per fare prospera cosa dobbiamo di riuscire a dare delle strategie che possono aiutare a migliorare il guadagno ma nel lungo termine quindi non tattiche qualcosa che porti i risultati li mantenga ma allora certamente creare un posizionamento del brand è importante stare attento al posizionamento e non discuterlo ogni mese gente mi fanno ridere i colleghi che dicono la è l'imprenditore che abbia la strategia o la strategia c'è bisogno la strategia si fa una volta due volte in decennio la strategia in che modo decidi raggiungere gli obiettivi no quante volte devi fare strategia quello che si fa di solito è tattica quindi una volta fatta la decisione prese le decisioni strategiche tutto il resto è tattica quindi prendete le decisioni strategiche sensate senza diventare bandiere che cambiano un cambiamento e cambiano direzioni vedo imprenditori che vogliono fare una cosa poi vogliono fare un'altra cioè viene una decisione e vai avanti perché la persistenza nel mercato porta risultati cioè se io avessi cambiato tre volte posizionamento negli ultimi decenni oggi non sarei qui quindi prendi una direzione e mantieni quella posizionamento con le scelte strategiche e mantieni in maniera corrente fin quando non vedi che gli sussati arrivano perché poi gli sussati arrivano ma il motivo per cui molto spesso le aziende si perdono è perché cambiano di continuo e chi non capisce che cazzo fai quindi a un certo punto ti molla quitando questo scegli delle strategie andare dritto avanti tutto fin quando non si raggiunge la meta o moriamo c'è il tentativo di raggiungere questo è il primo grande consiglio di posizionamento e scelte strategiche che poi rimangono coerenti nel tempo la seconda cosa è la reputazione cioè non facciamo che l'ho detto qualche tempo qualche video fa c'era un amministratore delegato che tuonava non facciamo che per guadagnare a mille euro in più qualcuno di voi lo vieni nella politazione di questa azienda perché non è che mi licenzio vi massacro ed aveva ragione cioè la reputazione dell'azienda oggi è tutto nel futuro la reputazione delle aziende saranno ancora più importanti sarà ancora più importante del servizio perché il livello di servizio di qualità dei prodotti ormai è un livello arrivato a un livello di uno standard veramente elevato quello che fa la differenza è che sempre più le nuove generazioni osservano il livello di attività la reputazione che hai la responsabilità sociale che tu assumi il mio figlio guarda dicevo avevo questi qua costano un po di più però vedi questi qua stanno attenti sono carbon free sono plastic free vestono comprono gli alberi per recuperare il caldo e produrano ci fanno caso ci fanno caso una generazione in molto molto interessante quelle dei nuovi diciottenni di nuovi sedicenni e quindicenni che sono i nostri clienti del futuro è molto interessante molto intervisto stare attenti a guardare questa è una generazione che ci ingiudica ci osserva lo vediamo come dipendenzi dice non si trovano più persone vogliono lavorare non è vero per se vogliono lavorare ci sono e per me che vi selezionano noi eravamo illusi di selezionare perché era così no era così però una volta fino a 10 anni fa arrivano le persone fammi lavorare facciamo la stessa cosa per te perché tu mi di un lavoro oggi ragazzi i giovani si rendono sempre piacuto che possono crearsi un lavoro e magari capare anche meglio di genitori che sono impiegati e questo è una verità però da un altro lato si rendono conto anche che devono imparare dalle aziende quindi si rendono conto che vogliono aggiunto di apprendere qualcosa in azienda ecco che cercano aziende dove sanno di poter contare qualcosa e che sanno che possono imparare non si accontentano il lavoro non si accontentano la prima azienda che trovo ma cercano l'azienda quindi oggi siamo noi che siamo sottoposti alla selezione del personale non deve selezionare personale e quindi creare una buona reputazione far sapere in giro che la tua azienda si lavori bene è una cosa importante io lo vedo vedo sempre di più ho un cliente di qualche tempo fa faceva difficoltà a trovare personale e come mai guardiamo un po vediamo un po cosa si dice di voi trovai online referenze negative di quattro ragazzi degli anni le avevano lasciate ma si vanno erano cioè tra l'altro aveva ragione l'azienda cioè analizzando quei fatti scoprì che poi alla fine aveva più o meno l'azienda come se queste cose a turbolenza che era contento e questi qua non ho lasciato una referenza che dico scusate perché non avete fatto scrivere l'avvocato visto che avevate in che ragione ma sicuramente si è corrido a questi e non ci cuore ma questi ti hanno lasciato le referenze negative dico gli altri dipendenti perché non scrivono referenze non gliele chiediamo chiediamoglielo adesso abbiamo riempito il sito di referenze positive di dipendenti dicendo per favore chi di voi se vuole farlo lo faccia non siete obbligati ma fatelo porco giuda l'hanno fatto a quel punto hanno visto che nel sito incominciavano le nostre le loro job le loro posizioni aperte incominciavano a tirare più traffico perché le persone ti giudicano guardano a vedere sui sinti vanno a vedere anche se sono veri le tue recensioni mi fa ridere chi fa un lavoro simile a me dice mille recensioni sono finte mille recensioni io c'ho di quanti clienti abbiamo 160 140 faccio scrivere recensione cioè tu hai fatto mille recensioni come le hai fatte sono finte discorso finito cioè fammi vedere i nomi e cognomi se li cerco online li trovo glielo chiedo se ha scritto agenzione è vero perché molto spesso non è così e i giovani se ne rendono conto non so non c'era nella naso come un po' noi no ci beviamo un po' tutto ancora siamo un po' effetto questi questi ragazzi qua si rendono conto e datano vanno nei forum cercano chiedono quando c'è una reattiva operazione sui cazzi tuoi quindi è importante creare una reputazione di ferro sia per i dipendenti che per i clienti antonio ti ringrazio credo che per oggi è davvero tutto bene grazie ci vediamo al prossimo video in cui parliamo di parliamo di exit aziendale quando e perché farla il prima possibile perché la verità è che bisogna impostarlo in exit aziendale ma ne parliamo nella prossima puntata ci vediamo al prossimo data che era numero 8 esatto mamma mia andiamo veloci ciao a tutti